bene arrivederci a questa ultima edizione del ti giro forse ma torneremo presto prestissimo quindi salutiamo tutti coloro che hanno avuto il barbaro coraggio di seguire il ti giro ovvero michele 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 tutti michele si chiamano e vabbè se hanno messo il lì che bisogna nominarli allora di miriam valentina va veloce giuseppe marie macolata tizio caio e sempronio e i cognomi non li facciamo per una questione di privaci adesso le news del giorno bari vecchia fa buon brodo questa sembra essere la prelibatezza del momento nel capolubo pugliese ora parliamo in arabo e bugia a giocare a giocare a giocare a scherzare sto a guaglio tu a me qua mi stai qua mi stai guaglio dalla prima puntata qua mi stai io a te ti devo rompere il pallone te l'ho detto mille volte te l'ho detto io ti rompo il pallone io ti rompo il pallone guaglio non hai capito niente te ti rompi il pallone eh te l'ho detto e per finire l'ha puntato col botto va chiangiamo va continuano le indagini tra san giuliano che tanto santo non è e la boccia che a quanto pare ha un bel paio di bocce si capito dedo a questo punto io ho rotto il pallone arrivederci alla prossima edizione